Saranno consegnate nel pomeriggio di oggi le prime 11 case ad altrettante famiglie sfollate a seguito del crolo del Ponte Morandi a Genova. Il Presidente della Regione Giovanni Totti che opera stretto contatto col Sindaco Marco Bucci ha annunciato che entro il 20 settembre verranno assegnate altre 40 case grazie al contributo di Cassa Depositi e Prestiti e entro fine settembre saranno ristrutturati altri 100 appartamenti cui se ne aggiungeranno in seguito altri 150. Totti ha assicurato che nell'arco di due mesi tutti gli sfollati avranno una casa. Intanto a seguito di preoccupanti rumori provenienti dal Ponte i Vigili del Fuoco hanno bloccato le operazioni di recupero dei beni all'interno delle case sottostanti evacuate. Proseguono invece le indagini della Procura Genovese sulla tragedia e la Guardia di Finanza dopo aver prequisito gli uffici di autostrade per l'Italia ha acquisito documentazione anche al Proveditorato per le opere pubbliche. E finalmente cominciano a emergere alcuni particolari del contratto di concessione stipulato con autostrade per l'Italia e posto sotto segreto di Stato. Un segreto che forse può essere giustificato solo con la vergogna per qualcuno di aver firmato un contratto che prevede che il concessionario abbia diritto a un indennizzo anche se è stromesso per dolo o colpa grave.